Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Terminata la ricchia e terminata 1-0 in favore della Salernitana. Salernitana che porta via tre punti importantissimi, tre punti che permettono appunto alla squadra di Davide Nicola di salire a 13 punti classifica. Invece questa sconfitta per lo Spezia significa che la squadra Ligure resta a 9 punti. Ragazzi inizio dallo Spezia. Lo Spezia secondo me nel primo tempo ha giocato meglio rispetto alla Salernitana, ha dimostrato personalità. Vorrei sottolineare la prestazione di Olm che avevo già visto contro la mia Juventus e mi era piaciuto. L'ho rivisto giocare oggi e secondo me è un giocatore con un bel passo, con una buona personalità ed un giocatore interessante. Però ragazzi non è un caso se lo Spezia continua a non segnare in trasferta, non solo non riesce a vincere ma proprio non riesce a segnare. Non è un caso. Ha avuto a mio avviso due occasioni con Inzolà per poterlo fare, una delle quali, se non ricordo male, intorno all'87esimo. Però fa proprio tanta 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 fatica a creare occasioni da gol veramente pericolose. Perché comunque nel primo tempo erano stati principalmente tiri verso la porta di sepe ma molto agevoli. Mentre Dragoschi, ad esempio, ha fatto due interventi nel finale di partita veramente importanti, veramente di livello. È uno Spezia che deve riuscire a trovare la quadra perché è inammissibile non riuscire mai a segnare in trasferta. Se vuole salvarsi deve riuscire a sbloccarsi e portare via punti importanti. Questa era una partita sicuramente non facile per la squadra Ligure, però era una partita in cui, a mio avviso, avrebbe dovuto fare di più. Anche perché, ripeto, era partita meglio rispetto alla Salernitana, ma poi piano piano si è spenta, specialmente dopo il gran gol di Mazzocchi. Ma appunto, passiamo alla Salernitana. Primo tempo, Nii, secondo me sono venuti almeno oggi giocatori importanti. Candreva a me nel primo tempo non era piaciuto, non era quasi mai pervenuto. Koulibaly oggi ha fornito una prestazione meno brillante di tante altre volte in cui l'ho visto giocare. Io l'ho sempre detto, un giocatore che a me piace, lo ritengo un giocatore molto interessante, però oggi ha fatto pochino. Mi era piaciuto di A. Ragazzi, io continuo a dire che questo è stato un grande acquisto, un giocatore che comunque fa la differenza lì davanti. E mi era piaciuto anche come si era mosso Bonazzoli. Però per me i due barra tre grossi assenti nel primo tempo sono stati Candreva e Koulibaly su tutti. E poi anche lo stesso Mazzocchi non aveva giocato un grande primo tempo. Però il migliore in campo per me, quest'oggi lo dico subito, è Fazio. Fazio per me oggi ha fatto un partitone, è stato onnipresente. Ma comunque tutta la difesa della Salernitana ha giocato bene, lo stesso Gionber, tutti hanno giocato bene in difesa. Però Fazio secondo me è stato il migliore in assoluto. E poi nel secondo tempo, ragazzi, la Salernitana è venuta fuori da questa situazione, diciamo, di difficoltà, mettiamola così. Perché anche all'inizio del secondo tempo, secondo me, lo Spezia aveva iniziato con un approccio migliore. Però poi la qualità dei singoli viene fuori. Candreva che finalmente riesce a trovare più spazio. Un pallone che viene messo in mezzo. E poi Mazzocchi si mette da questo grandissimo gol. Perché è solo un grandissimo gol. E da lì però cambia la partita. Perché lì è l'inerzia della partita, va tutto in favore della Salernitana, che riesce a gestire il gioco. Non rischia praticamente mai, se non appunto all'ottantasettesimo. Con l'occasione che dicevo prima di Inzola. Sì, è poco prima con un altro tiro di Inzola, che era uscito non di tanto. Però, ripeto, la Salernitana nel secondo tempo è stata un'altra squadra. È stata un'altra squadra. Poi aggiungo, sono molto, molto, molto contento di aver rivisto in campo Boinen. Perché è un giocatore che a me piace. È un giocatore che secondo me sarà molto, molto utile a questa Salernitana. Ed è un giocatore che ha penetrato, ha fatto vedere subito la sua importanza. E questo giocatore è mancato tanto, a mio avviso, a Davini e Nicola. E poi, ragazzi, fatemi spendere due parole su Piontek, che secondo me ha avuto un impatto buonissimo sulla partita. Però, a mio avviso, ho mangiato un gol. Che un giocatore come lui, delle qualità che ha lui, non può permettersi di sbagliare. Va bene che Dragoschi è stato bravo, ma lì, un giocatore come Piontek, deve fare gol. Nell'uno contro uno col portiere, con tutto il tempo, di prendere la mira e calciare, deve fare gol. Però, comunque, mi è piaciuto il suo impatto sulla partita. È entrato bene, senza dubbio. Quindi, a mio avviso, è una vittoria meritata, alla fine, quella della Salernitana. Ha legittimato il vantaggio e lo Spezia non è riuscito a fare niente per impedire a Davini e Nicola e ai suoi di portare via questi tre punti. Ragazzi, io la Salernitana l'ho già vista più volte quest'anno. L'avevo vista, praticamente, tutte le partite nel finale della scorsa stagione. È una squadra che a me piace guardare. È una squadra che, comunque, a me diverte. E ha, ripeto, giocatori interessanti. Molto, molto interessanti. Prima di chiudere, voglio spendere due parole, anche su Ribéry. Non ho qui con me la somaglietta della Fiorentina. Ma è stato emozionante vedere il saluto di Riberia e i suoi tifosi. Mi rende triste che un campione così debba salutare il calcio in questa maniera e non a fine stagione e non giocando la partita. E i suoi problemi fisici sono noti. Quando ho capito, è entrato a far parte dello staff, o è già entrato a far parte dello staff della Salernitana. Però è un giocatore che ha dato tanto, tanto, tanto al calcio e che avrebbe meritato un saluto diverso. Non si può solo... Quando con un giocatore così, ragazzi, non ci sono tante parole da usare. Sono un grazie, perché è un campione di livello assoluto. Lui, al Bayern, con Robben hanno fatto cose strapitose. E lui è stato uno dei giocatori più forti degli ultimi, probabilmente, vent'anni. A livello proprio mondiale, ovviamente. E mi dispiace tanto. Ripeto, avevo acquistato la sua maglietta della Fiorentina, perché lo ritengo un campione che va al di là di un colore di una maglia o quello che è. Per me è un giocatore incredibile. Oggi, veramente, se ne va anche una parte della mia gioventù con lui. Perché mi ricordo che lo compravo spesso e volentieri nei videogiochi, quando ero più piccolo. È un peccato, è un peccato, ragazzi. Quindi, grazie di tutto, Frank, e grazie di tutto quello che ci hai dato e ci hai regalato. Va bene, ragazzi. Vi mando un forte abbraccio. Vi invito a iscrivervi al canale, a fondere il verbo. È stato veramente emozionato. Ciao, ragazzi. Grazie. Grazie.